Scata lo screening sulle colonie di pipistrelli in città, un monitoraggio costante e puntuale così da ridurre i rischi per la salute dopo il caso del gattino di Arezzo trovato positivo al lissavirus scoperta fatta in seguito alla morte del felino che aveva morso la proprietaria. Il lissavirus è un morbo simile alla rabbia ma finora isolato solamente una volta nel 2002 su un pipistrello del Caucaso. Ieri ad Arezzo nella sede dell'istituto zoo profilattico Lazio Toscana si è svolto un incontro tra le autorità competenti territoriali, il dipartimento di prevenzione dell'Asla Sud-Est, la regione e l'istituto zoo profilattico sperimentale delle Venezie per fare il punto sulle attività di sorveglianza che il ministero della salute sta coordinando attraverso il tavolo di esperti tecnici che studia appunto il caso di lissavirus. È stato così immediatamente avviato il monitoraggio sulla popolazione dei pipistrelli presenti sul territorio, un'attività coordinata da tecnici del centro di referenza nazionale. In attesa di conoscere il risponso completo dell'indagine i veterinari dello zoo profilattico di Arezzo raccomandano comunque di non intervenire su animali in difficoltà a mani nude e a richiedere in caso di morso l'intervento del servizio di prevenzione dell'Asla e del medico per evitare qualunque rischio di contagio. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli infine ha emanato nelle ultime ore anche una terza ordinanza che prevede il controllo serrato di gatti di proprietà nonché delle colonie feline del territorio.